Il matrimonio di Francesca Ferragni e Ricky era destinato a essere un evento totalmente privato e riservato, senza possibilità di uscita di video e foto non autorizzati. Tuttavia questa blindatura non è stata mantenuta, poiché sono trapelati video e foto in anteprima, offrendo uno sguardo fugace ma intrigante nell'evento. Gli invitati privilegiati si sono riuniti, per una cena all'aperto, in un unico tavolo lungo, all'interno del suggestivo castello di Rivalta. L'atmosfera romantica e l'ambiente storico del castello hanno aggiunto un tocco magico alla serata. Il momento culminante della festa è stato il taglio della torta nuziale, che era splendidamente decorata con frutti rossi, creando un'opera d'arte commestibile. Dopo il taglio della torta, gli sposi, Francesca e Ricky, si sono scambiati affettuosi abbracci, celebrando il loro amore di fronte a familiari e amici. Questo matrimonio, nonostante la breve anteprima non autorizzata, è rimasto un momento speciale per la coppia, e auguriamo a Francesca e Ricky un futuro felice e luminoso insieme.